Per allearle ancora di più di prima, perché senza questo l'avvitamento è sicuro, la divisione è sicura, la subalternità è sicura, giacché il dominio sulle cose che noi stiamo... Credo che Ponti da domenica sia l'ultima chance per la Lega per scendere da un treno che sta andando a sbattere, credo che sia l'ultima chance per la Lega che è una forza politica importante, rappresentativa e che svolge un ruolo significativo in una parte del Paese di avere ancora un futuro, di giocare ancora un futuro importante. Noi ci auguriamo che la Lega abbia ancora un futuro nella storia politica del nostro Paese, ma per avere questo futuro la Lega se rimane su questo treno andrà a sbattere insieme a Berlusconi, andrà a fondo insieme a Berlusconi. Quindi aspettiamo Ponti da, lo aspettiamo senza da parte nostra particolari apprensioni, perché noi sappiamo che quando le elezioni verranno, gli italiani l'hanno già detto, volteranno pagina e daranno al centro-sinistra la chance di governare questo Paese. Ma crediamo che sarebbe meglio per tutti evitare di perdere tempo e sarebbe, credo, anche meglio per la Lega avere un futuro e avere un futuro che passa attraverso lo scendere da questo treno che sta andando palesemente a sbattere. Nemici che in passato non avevano, perché ambedue le realtà, talvolta...